e allora eccoci rientrati abbiamo appena visto lo spot della campagna vaccinale promossa dalla Asley Teram abbiamo qui con noi proprio il direttore generale della Asley Teram Maurizio Giosia ben ritrovato direttore. Buon pomeriggio a tutti voi grazie sono onorato di essere qui oramai è da tempo che non ci siamo visti l'anno scorso comunque abbiamo parlato di prevenzione anche questo la mission di pomeriggio abbiamo appena visto come abbiamo detto lo spot della campagna vaccinale e iniziamo proprio ad affrontare questa tematica la campagna vaccinale rappresenta uno step molto importante come sta rispondendo la comunità Teramana la comunità Teramana cioè è ovvio che sappiamo che le vaccinazioni rappresenta uno dei fattori più importanti per la prevenzione per tutte le fasce di età ma soprattutto è necessario per i gruppi di popolazione nei quali è più alto il rischio sia per la malattia stessa che per le complicanze che ne possono derivare rappresenta anche una possiamo dire anche una modalità per contrastare una delle problematiche emergenti della sanità che è quella appunto dell'antibiotico resistenza infatti l'aumento delle coperture vaccinali unitamente a una maggior diffusione della proprietà della somministrazione del vaccino degli antibiotici anzi diminuisce appunto a diminuire la necessità dell'impiego degli stessi anche perché quello dell'antibiotico resistenza visto che se ne fa un abuso di antibiotici oggi dopo rischiamo che non siano più efficaci per la cura delle malattie e questo può diventare un problema grande. Difatti è uno dei problemi che l'organizzazione mondiale della sanità sta attenzionando in questo momento ma anche la vaccinazione in sé rappresenta anche un investimento in termini economici con risparmi sia i costi diretti che quelli indiretti derivano appunto dalla gestione clinica sia delle malattie che delle varie complicanze che ne possono derivare quindi come dicevi tu ecco è importante che ci si vaccini però ecco non è che noi abbiamo eseguito circa finora 25 mila prestazioni di vaccinazione nella popolazione rispetto al target di cui che si dovrebbe vaccinare persone anziane persone che hanno dei problemi di cronicità persone che hanno anche delle complicanze hanno devono farla la vaccinazione importante che la facciano ma sia per loro sia per curare se stessi ma soprattutto anche per evitare il contagio degli altri ecco perché però ecco la rispondenza non è quello che ci si attendeva. Però dovrebbe essere un po' il contrario perché dopo il covid dove i vaccini ci hanno veramente salvato non doveva essere un po' la corsa poi al vaccino a cercare di... C'è la resistenza delle persone non tutti lo fanno forse non ne hanno piena contezza perché secondo me la gente non si rende conto delle conseguenze a volte la vaccinazione può essere di influenza ci abbiamo anche la vaccinazione del dell'herpes zoster come quella appunto della... Detto anche il fuoco di Sant'Antonio... Come il pane omococco a volte hanno poi per chi per l'anziano e soprattutto l'anziano fragile possono avere le conseguenze che portano anche la morte cioè non è che il covid abbiamo visto che conseguenze ha date però l'influenza non è che sia tanto da meno come conseguenze che può comportare per la salute dei cittadini quindi è giusto che si prenda veramente cognizione di questa problematica che bisogna vaccinarsi per tutte queste forme di che possono avere appunto delle ripercussioni anche gravi verso il paziente. E poi ricordiamo che per queste categorie il costo è totalmente... E' tutto gratuito la vaccinazione noi abbiamo messo in campo il... le fazioni sono gratuite le si possono fare nel Siesp in tutte le sedi del Siesp che stanno allogate appunto a Casalena a Teramo dopo stanno nei... stanno a Nereto, Giuglianova, Roseto, Silvi, Atri e oltre la possono fare anche i medici di medicina di basi per la di Brassette la fanno sia nelle UCCP anche nei loro ambulatori privati oppure possono a volte andare a domicilio dei pazienti anche nel RSA e è tutto a livello gratuito per i cittadini e quest'anno anche le farmacie stanno facendo le vaccinazioni. Quindi come possiamo dire... L'organizzazione complessa però si cerca... Abbiamo messo in campo un'organizzazione complessa e efficiente per dare una risposta anche al cittadino che appunto per dargli la possibilità di poterlo fare nel migliore dei modi con tranquillità fatta da professionisti e quindi senza nessun... senza incorrere in rischi nel momento in cui la vanno a fare in ambienti proprio che sono appunto dedicati per questo e però ecco devono capire che la vaccinazione anche l'herpes zoster è un problema perché per soprattutto le persone over 50 può dare anche delle complicanze cioè creano disagi di vita perché portano dolore e portano delle conseguenze e se visto che non hanno non hanno conseguenze verso non è che hanno controindicazioni verso chi si vaccina in questi casi io ecco noi abbiamo spinto anche con una campagna vaccinale importante con tutte con tutti voi anche voi siete coinvolti come tutte le altre televisioni come la stampa i social per portare il cittadino proprio a fargli comprendere l'importanza di poter di vaccinarsi. Si è parlato anche dei vaccini delle fasce più giovani diciamo così soprattutto dei bambini che poi possono essere a volte del pneumococco che può dare ai bambini sotto i due anni delle problematiche quindi è importante vaccinarsi ma dopo però ecco tu sai benissimo che c'è questa campagna che è iniziata con il covid contro le vaccinazioni e ognuno è libero di fare quello che vuole però ecco sulla salute non si deve scherzare. Perché poi l'obiettivo è quello di evitare le ospedalizzazioni. È certamente ovvio evitare l'ospedalizzazione prevenire. Le malattie oggi dobbiamo prevenirle perché una volta se le preveniamo evitiamo l'ospedalizzazione evitiamo le conseguenze che ne possono arrivare sulla salute di noi tutti. Ecco perché è importante farlo. Farlo per se stessi soprattutto ma anche per gli altri perché noi non vaccinando se siamo portatori di questo virus possiamo contaminare persone che purtroppo non lo hanno fatto e a cui poi per le conseguenze salutari che hanno oppure per altre situazioni gli possiamo dare anche questo virus lo possiamo contagiarle e quindi creargli anche delle problematiche che ne possono derivare anche quelle gravi capito. Direttore abbiamo parlato dell'importanza della vaccinazione. Un altro passaggio fondamentale è quello dello screening, della prevenzione che passa tramite lo screening. Certamente. Tu sai benissimo anche perché anche qui noi abbiamo fatto una, facciamo delle campagne pubblicitarie di comunicazione importanti e dal 2015 ormai sono trascosti dieci anni. Il nostro slogan è sempre lo stesso. Si chiama screening e salva la vita. Cioè tutti gli screening soprattutto quelli oncologici che possono essere quello della mammella, del colo dell'utero e del colon sono attivi in Abruzzo e la regione le dobbiamo farli obbligatoriamente perché è il ministero che vuole che si facciano questi tipi di screening. È un ordine proprio del ministero della salute. Sono terminati infatti screening obbligatori nel senso che noi siamo appunto obbligati e io aggiungo giustamente che siamo obbligati a farle e quindi proporli alla popolazione. Vogliamo ricordare che in Abruzzo lo screening copre per quanto concerne la mammella la fascia di età che va dai 50 ai 69 anni. Per quello che riguarda la ricerca del sangue culte delle feci per il cancro, anche qui l'età è da 59 a 69 anni. Invece quelli per il colon retto è da 25 a 64 anni per il pap test e l'HPV test per il cancro del colo dell'utero. Quindi questi sono appunto gli screening che abbiamo messo in campo obbligatori e le fasce di età per cui si è obbligati appunto, si dovrebbero essere obbligati a farlo. Però negli ultimi anni è cresciuto poi questo dato? È cresciuto, sì sono cresciuti. Anche grazie alle campagne che state portando avanti con i camper? Vi dico anche dei numeri perché dall'inizio dell'anno fino ad ottobre per quanto concerne lo screening del colon retto abbiamo su un target di circa 45 mila persone abbiamo eseguito più di 10 mila esami quindi abbiamo superato il 32% della popolazione e stiamo oltre la media nazionale che è del 30%. Noi il nostro scopo è quello di porci degli obiettivi di crescita per queste cose perché tutti siamo coscienti che farsi dei controlli a volte è fondamentale per salvarsi la vita e questo dobbiamo far capire alla popolazione. Anche per lo screening della mammella da gennaio a ottobre su una popolazione target di 23 mila persone abbiamo eseguito circa 8 mila e 300 esami arrivando a una percentuale del 61% mentre per quello alla cervice su 17 mila persone sono stati più di 9 mila gli esami con una percentuale del 68% e oltre. Sono dati in forte aumento come vedete sono dati che stanno aumentando anche perché stiamo investendo parecchie energie sulla prevenzione in particolare sugli screening. E a proposito di screening comunque voi state anche muovendo per cercare di entrare dentro le case dei cittadini? Come? Andando anche con i camper proprio per raggiungere? No, con i camper ma soprattutto noi abbiamo messo un help desk. Noi li contattiamo i cittadini, li avvisiamo, gli diciamo che devono recarsi a fare questi screening anche perché chi non si sente chiamato rientrato in queste fasce d'età possono loro stesso chiamare il numero verde che abbiamo messo loro a disposizione perché ritengo sempre come uso sempre dire che prevenire facendo lo screening uno riesce a prendere per in tempo un tumore e si prende per in tempo un tumore significa come possiamo dire salvare una vita non salvarsi perché bisogna vedere dopo che tipo di tumore si ha però nel momento in cui io ne vengo a conoscenza ho più possibilità di combatterlo, di reciderlo dal nascere e quindi come possiamo dire aumentano le possibilità di vita del paziente, aumentiamo le possibilità di vita del paziente. Noi facciamo circa 14.000 telefonate al mese per invitare persone a sottoporsi agli screening. per fare un esempio sono stati 1010 gli appuntamenti fissati per lo screening della Mammela nel mese scorso, appuntamenti che si sono risolti nell'immediatezza, soprattutto senza impegnativa, senza esborso di denaro e soprattutto quelle persone che noi chiamiamo dopo non vanno a intassare le liste di attesa perché seguono un percorso diverso in tutte le prestazioni che devono effettuare nell'ambito dello screening, quindi significa anche come possiamo dire andare a non andare a intassare le persone che dopo invece si vogliono sottoporre a questi esami e si fanno nei CUP e si sentono dire purtroppo anche questo è un problema. Anche per il color retto siamo una percentuale più bassa, questo invece mi dispiace perché anche il color retto, noi mandiamo tutti i kit a casa, le persone ricevono a casa, quelli che rientrano nel target, però dopo rispondono in una piccola percentuale, penso che siamo sul 17-20% e questo è un male, perché è un male? Io l'altro giorno ne stavo parlando con i miei collaboratori, soprattutto con il direttore sanitario, che bisogna dare dei modi per far comprendere alla popolazione la importanza di questo, soprattutto sul colon, perché la maggior parte dei tumori partono tutti dal colon, ecco e quindi fare questo esame delle feci può essere uno strumento che può in alcuni casi intercettare l'insorgenza di un tumore e come dicevo prima, quando lo si intercetta subito sono più ampie le possibilità di curarsi. Ecco perché io mi impegno nel senso di dire andatevi a fatelo, lo scrivo, nel momento in cui vi arriva questa documentazione, la ASL di fare il materiale a casa di farlo, non costa nulla a farlo, si perde solo una decina di minuti, lo si fa, lo si ritrasmette alla ASL e noi diamo una risposta, dopo la risposta arriva direttamente a casa, nel momento in cui dovesse emergere che ci sono del sangue alle feci, i metamengri vengono condattati per fare una colonoscopia, quindi anche in questo caso si accerrano i tempi e si riesce ad ottenere quella prevenzione che è fondamentale per la cura. Il direttore lei più volte ha sottolineato che la parola chiave del suo mandato è quella di innovazione, l'ASL di Teramo, sono tantissimi progetti che ha messo in campo anche un'evoluzione della sanità, visto il correre dei tempi. certamente è ovvio che bisogna puntare sull'innovazione in generale, soprattutto in tema di apparecchiature, di processi, perché a mio avviso è il pilastro fondamentale di una gestione di un'ASL, quello di dare, di innovare. Ho creato anche una struttura dipartimentale nell'ambito dell'ASL su innovazione in senso lato, perché sono convinto che solo portando delle innovazioni che sono indispensabili oggi per implementare tutta l'assistenza sanitaria, si riesce maggiormente a dare una risposta di salute ai cittadini, perché il nostro problema è quello di mettere sempre il cittadino al centro del sistema sanitario. Per noi il nostro obiettivo è quello del paziente. Io sono stato, lo voglio portare come esempio questo, l'Agenas fa il piano nazionale esiti e da cui emerge quali sono i migliori ospedali in Italia. Il migliore è l'Humanitas. Quando è stato dato il premio al direttore dell'Humanitas lui ha detto, ma come mai siete, a prescindere dal fatto che potete essere bravi, sono bravi i professionisti. Però che cos'è che vi contraddistingue? L'accoglienza. Noi l'accogliamo il paziente con il sorriso. L'innovazione deve tendere a questo e quindi l'innovazione come lo otteniamo noi? Usando tutti i sistemi innovativi, sia tecnologici, sia la nuova era che è quella trasformazione digitale. La trasformazione digitale, ad esempio, la telemedicina, oggi è uno strumento fondamentale per far sì che io da remoto gestisca il paziente a casa. Ci sono tutti i dispositivi possibili e immaginabili che uno da una struttura centrale riesce a monitorare il malato, facendolo stare a casa, soprattutto quei malati che non hanno necessità di essere ospedalizzati. E quindi, ecco, noi abbiamo iniziato, questo dovrebbe essere il futuro, noi abbiamo iniziato, abbiamo la presa in carico con l'iniziazione, abbiamo 192 pazienti target, li stiamo seguendo, soprattutto, integrati nell'ambito di tutti i percorsi di agnoce erabili che abbiamo messo in atto, soprattutto della broncoscopia cronica ostruttiva, della diabetologia, dello scompenso cardiaco, di alcune patologie neurodegenerative. In questo modo si va verso l'ottimizzazione della presa in carico del paziente, evitando appunto che vada in ospedale e si raggiunge quell'obiettivo che è il domicilio come primo luogo di cura. quindi tutta l'innovazione tecnologica sta contribuendo al cambiamento della sanità e questo nell'ottica del PNRR, del DM77, no? Sempre per dare una risposta ai bisogni espressi dal paziente. E poi l'ASL comunque negli ultimi anni ha portato a Teramo importanti apparecchiettori. Noi abbiamo dato innovazioni importanti, soprattutto con la PET. Abbiamo lo strumento che è uno dei più moderni che ci siano in Italia, riducono i tempi della procedura di PET. Consiglio di avere meno radiazione al paziente, il tempo di durata diventa minore, ci dà la possibilità, hanno dei risultati efficaci dell'intagine della malattia, no? Ma questo per quanto riguarda tecnologie. Per le tecnologie col PNRR abbiamo dotato tutti gli ospedali, oramai, hanno una TAC di altissima qualità e tutti gli ospedali entro quest'anno avranno tutti, nel 2025, avranno una risonanza magnetica anche di elevata qualità, come quella che abbiamo messo appunto, noi a Teramo abbiamo la 3 Tesla, anche negli altri presidi non la 3 Tesla, però abbiamo acquistato delle TAC di ultimissima generazione. E soprattutto non solo tecnologia diagnostica, ma anche nella chirurgia, con il robot, il robot da Vinci, i XAI, noi abbiamo acquistato questo robot, fino ad oggi abbiamo fatto 248 procedure di robot, soprattutto con la chirurgia, la chirurgia toracica, la chirurgia generale, la ginecologia, e benché lo usiamo da circa un anno, siamo come nelle strutture che hanno un solo robot, come il nostro, siamo i decimi in Italia nei casi che vengono effettuati col robot, il chirurgo non interviene più direttamente sul paziente, ma opera a distanza, con una precisione... E poi ricordo che nel giorno della presentazione vennero anche i tecnici, è una specie di ragno... È un ragno, sì... Però permette proprio di non fare errori poi... Ma le innovazioni non riguardano solo le tecnologie, si declina in diversi settori, anche la cardiochirurgia. Noi a Teramo stiamo facendo degli interventi di altissima qualità, ad esempio è stato recentemente il primo in Aburcio che abbiamo fatto un sistema angiovacno, che per l'aspirazione di grandi trombi o vegetazioni infette all'interno del cuore, riusciamo a intervenire appunto, infatti qualche settimana fa la cardiologia di Teramo, la cardiochirurgia di Teramo ha effettuato un'innovativa procedura di asportazione di una massa mobile che stava proprio dentro al cuore. E quindi, come possiamo dire, cominciamo a fare interventi di altissimo spessore che, soprattutto nel trattamento endovascolare delle malattie della orta, infatti è stato effettuato il primo impianto in Abruzzo di un'endoprotesi castro-micropot, si chiama, in pratica un device che permette di trattare in modo rapido e definitivo la patologia che coinvolge appunto l'arco aortico e la orta, io non sono un medico, la orta torace, appunto leggo degli spunti che mi sono preso. Però quello che voglio dire è che nella cardiologia, nella cardiochirurgia, nella cardiologia, con le TAVI, con tutte le... noi abbiamo uno dei centri più importanti appunto che per il trattamento della orta senza appunto con l'emodinamica, vengono curati attraverso questo, abbiamo il dottor Deremigis che è uno dei migliori, ma non perché lavora a termo, però è uno dei migliori a livello nazionale che fa queste procedure e deve essere un vanto, come sarà un vanto quello che stiamo mettendo in atto, anche non solo nella chirurgia, ma anche nel sistema nervoso. Noi abbiamo una tradizione della cardiochirurgia a termo e soprattutto anche della neurologia. Difatti è sempre un'innovazione costante che mettiamo in campo perché nel 2025 dovrebbe entrare in funzione nella nostra ASL come primo centro un sistema di lettura automatica, operatore indipendente, quindi a prescindere dal medico, delle immagini di tacca risonanza dell'ictus cerebrale che si basa su una tecnologia informatica e intelligenza artificiale. Quindi noi non è che stiamo pensando al futuro con un nuovo ospedale che fra poco illustreremo i cittadini perché stiamo facendo lo studio di fattibilità, ma nello stesso tempo stiamo dotando anche i nostri ospedali, benché, come possiamo dire, non nuovi, però dobbiamo dotarli di tutte le tecnologie, di tutti gli strumenti che sono necessari per far sì che il cittadino terramano possa avere lo stesso tipo di cura che se si rega al di fuori di Teramo. Ecco perché ci dispiace avere della mobilità passiva, quando tante cose oggi possono essere fatte qui a Teramo perché abbiamo dei grandi professionisti, forse non riusciamo a divulgare certe cose, però noi veramente oggi abbiamo delle grandi specialità negli ospedali terramani, in tutti gli ospedali terramani perché ogni ospedale, certo l'ospedale di Teramo e l'ospedale AB è quello che ha tutto, tutte le professionalità, però anche negli ospedali periferici abbiamo messo in campo dei grandi professionisti a cui abbiamo dato a ciascuno una propria vocazione, perché per reggersi il sistema deve avere una rete, solo con una rete integrata di tutti riusciamo a concretizzare meglio le azioni che stiamo mettendo in campo, quindi ecco bisogna dare fiducia ai cittadini terramani perché devono essere consci che possono ben curarsi nel loro territorio, perché ci sono tutti i mezzi, tutti i professionisti e tutte le tecnologie. Direttore siamo arrivati alla fine di questa intervista, possiamo dire, o meglio ci può dare, ci può fare una promessa, il 2025 sarà un anno cruciale perché si porteranno a termine tanti progetti, anche l'avvio del nuovo ospedale perché comunque questo è imminente, oramai penso che entro dicembre daremo, entro i primi giorni dicembre, il nuovo progetto dell'ospedale e quindi in quell'occasione, e grazie ecco, devo ringraziare tutta la regione chi ci sta dando una mano, veramente ci sta sostenendo, anche con una situazione di problematiche varie che ci possono essere, però la regione ci sta sempre vicino, questo lo devo dire grazie al Presidente Marsiglio e alla dottoressa Veri, che hanno creduto in termo, ci stanno dando sostegno e fiducia, ecco, quello è importante, però noi dobbiamo lavorare, io a prescindere di essere direttore generale, sono uno di questo territorio, ho lavorato all'AS per 30 anni e quindi voglio che l'assistenza del cittadino seramano possa, non deve aver bisogno di andare a trovare sanità al di fuori, noi la possiamo dare e la stiamo dando nei migliori dei modi, ci proviamo almeno, ecco. Grazie mille al Direttore Generale dell'Asri di Terra, il Dottor Maurizio Di Giosia, che come ci ha preannunciato, rincontreremo presto un po' per svelarci anche il progetto del nuovo ospedale di Terra.